Mi mangiano in testa, cioè l'eterno per forza, poi con fatica, poi dico no, poi chiaramente dico allora questa sera non farete questa, poi chiaramente capito, mi misera, no, non sono io che poi cedo, però credo di avere la giusta mezzo, insomma poi ho anche il loro papà, è bravo in questo. A dire dei no, sì a dire dei no e comunque anche se poi si ripiega sul sì, comunque anche a correlare con una spiegazione, cioè ci deve essere un ragionamento, il no è assurdo, ottuso non ha senso, la severità è così fino a se stessa. Però diciamo che sì, tendo a essere, non siamo severi, però insomma su delle regole le diamo, io poi le ho date tantissime, essendo appunto sempre presente, perché veramente con due bambini maschi della stessa età, se non hai delle regole piuttosto ferre, comunque veramente poi rischi di farti proprio travolgere. Ma tuo padre era veramente così severo? Sì, era un uomo severo, sì. Con me stato come un papà severo. Ti sorprende? Ma non lo so, sì, per me invece è abbastanza logico. No, era un uomo dolce, perché era un uomo dolce, però era un uomo dolce, poi aveva questo charme, questo carino, però in casa era tosto. E questo su di te che effetto aveva la sua? Nel momento fastidio, polemico. Però ti aiuta, però secondo me sì. Grazie, ciao, grazie a voi.